Business Intelligence è un termine ombrello che comprende una serie di tecnologie, di procedure, di algoritmi e di modelli che ci consentono di ricavare valore dai dati e dall'analisi di questi dati. Dati che in un'azienda possono trovarsi a livello dell'organizzazione della produzione, del reparto commerciale o del reparto marketing. A mio avviso nei dati c'è tantissimo valore, il problema è che non sappiamo ancora completamente come raccoglierli al meglio, come pulirli al meglio e come utilizzarli all'interno di modelli che possono essere di analisi del passato o predittivi del futuro. Devo dire che in questo momento molto triste e brutto per tantissimi aspetti, il momento dell'epidemia e della pandemia, è diventato un po' chiaro a tutti con i famosi aggiornamenti delle 18 quanto i dati siano importanti per capire i fenomeni e per cercare di prevederli e di prevenire ciò che non vogliamo si realizzi. Il corso di ECIPAR vuole focalizzarsi su un passaggio di conoscenze e di competenze quantomeno di base per cominciare a ricavare un valore effettivo dai dati che tendenzialmente le aziende o già producono o già raccolgono. Partiremo certamente dalle basi e partiremo dal capire come qualunque soggetto economico oggi produce una grande quantità di dati e come probabilmente le aziende ne stiano già disperdendo il valore. Con questo corso cerchiamo di porre un freno alla dispersione di valore e di sensibilizzare e far comprendere che anche con strumenti e processi semplici si possano ottenere delle informazioni strepitosamente utili per le strategie di business. Secondo me ne vale assolutamente la pena.